Ciao a tutti dall'Isfascia Campane, ci troviamo qua alla Cacciana, frazioni di Ponta Nieto. Qui abbiamo un concerto di due campane, fra poco saliremo per vederle, tirare giù i dati, fare il censimento e anche provarle. Nel 1943 il paese è stato preso dai tedeschi ed è stata fatta una rappresaglia a seguito all'attentato partigiano e in una notte è stato completamente incendiato. Uno dei pochi edifici che è stato risparmiato è stata la chiesa. Si narra anche che durante la guerra i fucili e le mitragliatrici dei partigiani erano state nascoste da GDS. Grazie a tutti. Ci troviamo nella cella campanaria della frazione di Fontaneta, frazione Cacciana. Qui troviamo due campane, due campane probabilmente fuse dalla ditta Mazzola, comunque adesso metteremo fuori le scritte e i numeri dei fusori. La campana maggiore è stata fusa negli ultimi anni dell'Ottocento, mentre la campana minore è stata fusa nei primi anni del Novecento. Qui probabilmente prima della guerra comunque vi era la presenza di altre due campane, questo sta a significare grazie anche a questa tastiera che abbiamo trovato, con grande sorpresa. Quindi probabilmente c'erano quattro campane, una messa qui che è stata palesemente portata via in tempo di guerra, probabilmente nella seconda guerra mondiale, e anche lì dietro che è stato messo questo pannello. Vi facciamo adesso sentire i suoni delle campane, questa è la campana maggiore. E questa è la campana minore. 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 dagli sfasciacampane è tutto, vi salutiamo e ci vediamo in un prossimo video ciao alla prossima